Grazie a Bruno Gröning migliaia di persone vennero liberate da malattie inguaribili. Esperti di fisica, chimica, biologia, medicina, informatica, teologia, filosofia e molti altri arrivano ad avere rivelazioni inaspettate grazie alle proprie esperienze con l'insegnamento di Bruno Gröning. Bellezza della natura nelle forme e nei colori. Ogni petalo è costituito da miliardi di cellule viventi. Ogni cellula è un capolavoro di perfezione. Chi produce un tale capolavoro in un tempo così breve di giorni o settimane? La vita. Cos'è la vita? La vita è Dio, disse Bruno Gröning. Sapeva di cosa parlava. Bruno Gröning aveva un altissimo sapere fuori dal comune e la capacità di utilizzare le saggezze e le forze della vita, anche per gli uomini. Grazie a Bruno Gröning, migliaia di persone vennero liberate dalle sofferenze. Questo accadde quando, nell'anno 1949, divennero pubblici i successi del suo operare. Sempre più bisognosi accorrevano da lui. Fino a 30.000 ogni giorno. Egli parlava loro. E spesso stava silenzioso in mezzo alla folla. Non sono qui per tenere grandi discorsi, ma per aiutare e per trasmettere la guarigione. E l'inconcepibile accadeva. Le persone guarivano. Lui stesso era una persona modesta. Non accettava soldi per le guarigioni e ripeteva sempre «Non guarisco io. La forza divina aiuta e guarisce». Io non so molto. Io so solo ciò che voi non sapete più. Oggi le guarigioni continuano ad accadere. Numerosi racconti personali testimoniano gli effetti positivi ottenuti grazie all'insegnamento di Bruno Gröning in tutti gli ambiti, anche ai giorni nostri. Su questa pagina internet troverete molte informazioni interessanti e toccanti. Potrete dare uno sguardo profondo nell'insegnamento di Bruno Gröning in dimensioni sconosciute alla maggioranza delle persone del suo tempo. Il suo sapere, riassunto nel suo insegnamento, viene coltivato oggi dal Circolo degli Amici di Bruno Gröning e in oltre 100 paesi al mondo viene trasmesso gratuitamente alle persone interessate. Ciò è possibile perché tutti gli aiutanti, senza eccezioni, lavorano gratuitamente in segno di gratitudine per gli aiuti e le guarigioni ricevute e tutti i costi vengono coperti da donazioni volontarie. esperti di fisica, esperti di fisica, chimica, biologia, medicina, informatica, teologia, filosofia e molti altri arrivano ad avere rivelazioni inaspettate grazie alle proprie esperienze con l'insegnamento di Bruno Gröning. Questo gli entusiasma così tanto che informano l'opinione pubblica con le loro testimonianze personali mostrando i possibili vantaggi legati all'insegnamento. Ciò che diceva Bruno Gröning mi ronzava in testa, non esiste l'inguaribile e poi vedi durante il film testimonianze di guarigione dalla sclerosi multipla e allora mi chiesi posso ottenere anch'io la guarigione? Sentii la forza scorrere attraverso il mio corpo, qualcosa che prima di allora non avevo mai percepito e questo grande amore di Bruno Gröning. Il mio modo di vedere cambiò completamente, ero di nuovo piena di energia. Le buone esperienze che le persone facevano con questo insegnamento indipendentemente dalla religione e dalla nazionalità con l'assunzione consapevole dell'energia divina sono un incitamento e un ammonimento allo stesso tempo a riconoscere il bene e a perseguirlo costantemente. Convincetevi voi stessi, era una raccomandazione frequente di Bruno Gröning. Le esperienze fatte e raccontate qui non sono solo di grande interesse per medici e scienziati, ma anche per persone in cerca di aiuto, per genitori ed educatori e in particolare per tutte le persone di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.